buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora sì scusate la voce c'è un raffreddore assurdo però non ho la febbre non ho nulla ho solo il naso toppato intasato e va bene niente stavo dicendo il pacchettone 80 euro sì che bello allora hai speso 80 euro sì ho speso 80 euro dove? da best clay filmo soft ieri sono andata a ritirare il pacchettone c'era il black fried no sì black friday venerdì nero e anche loro hanno aderito a questa bellissima iniziativa americana e niente io ne ho approfittato e ho preso 700.000 paletti non erano tutti scontati alcuni li ho pagati interi altri erano scontati per cui niente andiamo ad aprirlo e vediamo un po' la batterina e va bene ok filmo liquid un po' di scorta non fa mai male anche perché questa oddio ce n'è ancora però va bene così filmo liquid mamma quanti panetti ma questo colore qua no alcuni li ho presi costavano poco li ho presi per provarli ma questo non è che mi piace tanto no non mi piace tanto per nulla rose gold va bene questo è il nostro champagne va bene questo va bene il nostro cioccolato va bene un altro cioccolato va bene questo è il rame rame glitterato dovrebbe essere lui bello o non è lui aspetta che mi tocco nelle occhiali scusate ragazzi eh arrivo rose gold anche questo rose gold due ne ho presi uno della prima e uno della film va bene ok poi questo qua per il mantello di anna è praticamente perfetto non lo mischio con nessun altro lo uso così direttamente con me un azzurro che fa sempre il comodo si questo macello e chiera che non so che cosa un bianco poi abbiamo rosso rosso questo che rosso christmas red che bello rosso natale mentre questo qua di anna magenta questo qua vabbè il cioccolato qui è il che cavolo di colore è questo devo mettere anche a fuoco vabbè brunito brutto vabbè e questo invece è il peppermint bello poi abbiamo il traslucente bianco bello abbiamo questo rosa proprio tenue tenue bellino mi piace questa prima volta che lo prendo blossom fiordè vabbè avete capito un giallo mamma un giallo voi lo vedete proprio quasi fluo ma non è fluo è un giallo minions si giallo minion un altro rosa kira mi fa tutto sto macello stamattina non so se è normale poi le crew film soft e questo qui è azzurro verde ah petrolio si bello io lo mischio sema il bianco viene un tour wise favoloso un verde non mi piacciono tanti verdi ma ogni tanto bisogna prendere sia il verde che il blu niente di che poi abbiamo ancora un blu infatti un altro marrone però più chiaro questo no si è proprio lo stesso un arancio bello mi piace questo primo dell'arancione della prima mi piace tantissimo ma ne ho preso uno un po' più caldo della fama soft vedete un po' più sull'ocra poi abbiamo un altro rosso questo è il rosso carminio bello mi piace il professional l'ho pagato interi mentre la prima li abbiamo li ho presi scontati addirittura 1,35 beh poi dovete aggiungere l'iva però 1,35 invece degli 1,70 di solito cavolo è stato un bello sconto questo è il soufflé bianco l'iglue bello mi piace l'iglue poi abbiamo ah si il bianco glitterato mi piace moltissimo un altro petrolio soufflé abbiamo un nero soufflé che è quello quasi vellutato mi trovo bene poi abbiamo un altro bianco glitter un altro bianco glitter ne ho presi 3 perché l'avevo completamente finito abbiamo un altro giallo soufflé anche questo non anche questo è un giallo mignon voi lo vedete più fluo ma vi giuro che è un mignon e un altro rosso un po' più scuro di quell'altro di Natale bello e questo qui è un rosso fammi vedere che rosso è tart della vabbè lo metto a fuoco non so che è calo c'è ripai ecco mentre questo qui è camarlo camart canari canarino giallo canarino va bene poi cosa abbiamo ancora il wasabi bello piace poi abbiamo questo marroncino che è un po' più chiaro di questo bello mamma mara quanti quanti panetti che hai preso questo cioccolato ho voluto provarlo della soufflé questo primo oro che va come il pane anche quello un nero un rosso cadmio vanno sempre bene un bianco gigante mamma quanto è duro finalmente un panetto di primo duro ok perfetto poi abbiamo un bianco normale piccolo un altro rosso glitterato però vedete i glitter mi piace molto poi gli ultimi abbiamo quest'altro giallo ma che cavolo di giallo ho preso lemon limone ma non mi piacciono questi gialli così fosforescenti me lo devo ricordare di non prenderlo più sto filmo giallo qua ah si un pruglia un viola scuro adesso lo dovrò mischiare col giallo lì abbiamo questo azzurrino chiaro chiaro che è il minta bello mi piace tanto e poi abbiamo basta il wasabi ve l'ho fatto vedere il vostro ve l'ho fatto vedere si questo wasabi sembra sembra quasi un giallo ma è è verdino chiaro chiaro ok ragazzi finito direi che ho fatto una bella scorta che dite ammazza quanto approfitto sto a posto per un bel po' di tempo però l'ho voluto approfittare appunto perché c'era questo black friday e che c'è sempre questo black friday qua eh ecco partono le campane la gatta le campane stamattina era freddore ma si ma chi se frega va bene ragazzi e poi devo farvi vedere sono passata ritirando il pacchettone sono passata dall'edicola e ho visto questa bellissima confezione di frozen che ha attirato la mia attenzione e ne ho preso uno 2,99 non è costato neanche poco softball e niente la prima insieme allora softball qua c'è scritto non the movie disney frozen yeah get down poi eh eh collezionale tutti non penso proprio di collezionarli tutti eh quattro fantastici modelli non vediamo quale abbiamo trovato e apriamo insieme questa meravigliosa blind bag oh guarda abbiamo trovato proprio Elsa ma che culo che c'hai allora di soft sta cosa non ha il nulla il nulla è dura dura come l'acciaio è duro altro che softball qua c'ha l'orecchino al naso Elsa di qua non ce l'ha e di qua c'ha l'orecchino al naso e va bene ragazzi se devo fare la pubblicità sto softball no non non gliela do a Kira per giocarci perché non lo so e questo colora Anna crea la tua più ball disegnando il tuo personaggio preferito tua vabbè colora Olaf colora Elsa e vabbè io non coloro nessuno va bene ragazzi che dirvi no non è non è softball è una bola un po' dura io sono felice per questo va bene ragazzi vi saluto alla prossima ciao grazie a tutti